poi moverà l'istoria l'animo quando gli uomini ivi dipinti molto porgeranno suo proprio movimento d'animo interviene da natura quale nulla più che lei si truovar rapace di cose a sé simile che piagnamo con chi piange e ridiamo con chi ride e doglianzi con chi si duole ma questi movimenti d'animo si conoscono dai movimenti del corpo e peggiamo quanto uno ha tristito perché la cura estrigne e il pensiero l'assedia stanno con le sue forze e sentimenti quasi balordi tenendo se stessi lenti e pigri in sue membra palide e mal sostenute vedrai a chi sia malinconico il fronte premuto la cervice languida al tutto ogni suo membro quasi stratto e negletto cade vero a chi sia irato perché l'ira incita l'animo però gonfia di stizza negli occhi e nel viso e incendesi di colore e ogni suo membro quanto il furore tanto ardito si getta agli uomini lieti e gioiosi sono i movimenti liberi e con certe inflessioni grati così adunque conviene siano ai pittori notissimi tutti i movimenti del corpo quali bene impareranno dalla natura bene che sia cosa difficile imitare i molti movimenti dell'animo e chi mai credesse se non provando tanto essere difficile volendo dipignere uno viso che rida schifare di non lo fare piuttosto piagnoso che lieto e ancora chi mai potesse senza grandissimo studio esprimere visi nei quali la bocca il mento gli occhi le guance il fronte i cigli tutti ad uno ridere o piangere convengono per questo molto conviensi impararli dalla natura e seguire sempre cose molto pronte e quali lassino da pensare a chi le guarda molto più che egli non vede grazie